Al Ghero fa le prove in vista dell'estate, riaperti tutti gli alberghi, ieri in tanti, tra le vie del centro e a Fertilia per la festa di San Marco. Nei prossimi giorni saranno operativi tutti i voli stagionali, ma intanto ci sono i dati del primo trimestre dell'aeroporto che sono tutt'altro che positivi. Anche a Dal Ghero ieri è stata celebrata la festa della liberazione, eventi istituzionali in città e a Fertilia, con il corteo e la deposizione delle corone in memoria dei caduti militari e civili. Presentato questa mattina il ventesimo raduno dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, da domani sino a domenica una serie di eventi, tra questi il concerto della banda musicale in programma sabato sera e la sfilata conclusiva di domenica mattina. Un saluto a tutti voi telespettatori di CatalanTV, apriamo il telegiornale con quello che può essere definito un lungo ponte dal 25 aprile al 1 maggio. Prime prove d'estate per la rivela del Corallo hanno riaperto tutti gli alberghi, ma fanno da contraltare i dati a seroporti relativi ai primi tre mesi del 2018. Anche le strutture nella costa hanno riaperto i battenti in questi giorni, in vista della stagione. L'unica eccezione è il Baia di Conte, che si appoggia alla TUI e sarà operativo dal prossimo mese. Va detto però che i ponti del 25 aprile e del 1 maggio non fanno statistica. Insomma, non dobbiamo aspettarci picchi importanti ad età della federalberghi provinciale. Anzi, storicamente e paradossalmente, potremmo dire, il 1 maggio si registra persino meno occupazioni di posti letto. Anche perché, così come quella della Liberazione, si tratta di feste tutte italiane, che al massimo attirano in città turisti provenienti dalla penisola. Ieri però in tanti hanno approfittato della bella giornata per recarsi in spiaggia o fare una passeggiata tra le vie del centro Fertilia, dove era in programma la festa di San Marco, Algheresi e Sardi, arrivati da altre parti dell'isola. Se questi però sono gli aspetti che fanno piacere, in vista poi di nuovi voli, dall'altra, a proposito del nostro scalo, ci sono i dati meno confortanti di essere oporti. Perché anche a marzo Alghero ha fatto registrare il segno meno. 63.547 passeggeri complessivi, 3.000 in meno rispetto all'anno scorso, che aveva già fatto registrare una flessione importante. Dati che certificano che la picchiata dello scalo algherese prosegue, attacca il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde. Sono 164.000 passeggeri del primo trimestre dell'anno, con una perdita di circa 12.000 passeggeri sul pari periodo dello scorso anno, che però aveva già segnato meno 30,6% e 89.872 passeggeri in meno sul primo trimestre del 2016. Una vera e propria caporetto dei cieli di Alghero, attacca Tedde, le cui conseguenze economiche sono sulle spalle del territorio. Nel medesimo periodo intanto crescono Olbia, più 23%, e Cagliari, più 10%. Secondo l'ex sindaco di Alghero, l'aeroporto sconta la cattiva gestione delle politiche e dei trasporti attuate dall'Aggiunta Piglieru, a partire dal mancato sostegno a low cost, quando l'aeroporto era gestione pubblica, per proseguire con la rinuncia alla CT2, al fallimento della CT1, alla vendita al buio della società di gestione, e agli incomprensibili biblici ritardi del bando sulla destra giornalizzazione. Ora, si cerca di scaricare le responsabilità sui presunti deficit della destinazione Alghero e sull'impresa turistica del territorio, ma le responsabilità sono chiare, denuncia Tedde, e devono scriversi all'Aggiunta Piglieru e ai sindaci dei più importanti centri della provincia, che in silenzio hanno assistito al depotenziamento dello scalo. Ancora una volta chiediamo a Piglieru di prendere atto di questa crisi infinita e di convocare un tavolo con tutte le forze politiche, i sindacati e le forze produttive, per individuare misure che possano interrompere questa picchiata della più importante infrastruttura della provincia di Sassari. Ieri 25 aprile si è celebrata la festa della liberazione, come ogni anno anche Alghero ha ricordato questa data, il corteo con in testa il sindaco Mario Bruno, le autorità civili e militari, anche la neodeputata algherese del Movimento 5 Stelle Paola Dejana, diverse associazioni, è partito da Piazza Municipio accompagnato dalle note della banda musicale da Lerci, proseguito poi in Via Maiorca, Angolo Via Roma, dove è stata deposta la prima corona in memoria dei finanzieri. Tappa successiva a Piazza Sventramento, per la deposizione delle corone ai caduti civili della Seconda Guerra Mondiale, poi sosta ai Giardini Lepanto al Monumento Caduti dell'Aviazione, e poi lo Scalo Tarantiello per omaggiare i caduti della Marina, e infine l'arrivo in Piazza Portaterra, con la deposizione della corona al Grande, Monumento dei Caduti delle Due Guerre. Grande festa anche nella vicina borgata di Fertilia, che ha celebrato il suo patrono San Marco, il Comitato dei Festeggiamenti, in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore, Legis, con il patrocino del Comune, Fondazione Algaro e del Parco di Porto Conte, ha organizzato tutta una serie di attività ricreative e di intrattenimento, ma anche religiose, momenti di celebrazione come questo, che vedete nelle immagini con il lancio della corona in mare. Attività che hanno coinvolto migliaia di persone, che hanno scelto di recarsi nella vicina città di Fondazione, per trascorrere la giornata del 25 aprile, dalla mattina a vari eventi proposti, tra cui gare e degustazioni, per poi concludere con la serata in musica. E da domani e sino a domenica si svolgerà ad Alghero il ventesimo raduno dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, l'evento organizzato con il patrocino del Comune. La collaborazione della Fondazione Alghero prevede una serie di mostre, convegni e incontri con la cittadinanza, a cui parteciperanno autorità civili, militari e religiose, fino all'appuntamento di domenica 29 alle 10.15 per la sfilata conclusiva dei radunisti, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d'Armata, Giorgio Toschi. L'Anfi, ente morale senza fine di lucro, costituito oltre 100 anni fa allo scopo di fornire assistenza e mutuo soccorso ai finanziari in congedo, custodisce e promuove nella società civile la solidarietà e lo spirito di servizio, l'onore e la disciplina propri delle più alte tradizioni delle fiamme gialle. L'associazione è formata da circa 25.000 iscritti che fanno capo a 292 sezioni dislocate in tutto il territorio nazionale, sotto la guida del suo presidente, il Generale in congedo, Umberto Fava. La manifestazione offre l'occasione per insaldare i vincoli di amicizia fra i finanziari in servizio e in congedo e in ragione della località, quest'anno prescelta, rafforza e rinnova la vicinanza della Guardia di Finanza alla popolazione della Sardegna. Nei giorni 27 e 28 potranno peraltro essere visitate le unità navali del Corpo, ormeggiate presso la banchina Dogana. È stato prontato un programma ricco di appuntamenti. Domattina alle 9 il via con la cerimonia di alza bandiera solenne in piazza Portaterra e successiva deposizione di una corona d'alloro a monumento ai caduti della città e alla stele dell'Anfi in via Garibaldi 47. E questa mattina abbiamo realizzato diverse interviste. Sentiamo il presidente nazionale dell'Anfi, Generale in congedo, Umberto Fava. Generale Umberto Fava, presidente nazionale dell'Anfi, è stato scelto al Ghero per il ventesimo raduno nazionale. Abbiamo scelto al Ghero perché è un atto anche di rispetto e di considerazione per la Sardegna dove non era stato mai organizzato un raduno nazionale. Tre giorni di eventi, di manifestazioni? Tre giorni molto intensi, molto intensi. Il programma lo conoscete ma le parti più significative sono ovviamente le cerimonie militari per rendere onore ai nostri caduti, il congetto della banda del corpo, la sfinata finale e un concorso letterario che abbiamo voluto fare a tutti i giovani di Alghero per cercare di trasferire a loro gli ideali che noi cerchiamo di affermare ogni giorno. Ad oggi l'Anfi cos'è? L'Anfi è un ente morale ed è costituito da circa 25.000 soci si è articolata su 292 sezioni di cui una a Bruxelles e ha, come dicevo prima, oltre il compito di ricordare le tradizioni della Guardia di Finanza ha delle finalità di carattere sociale nei confronti di tutti i soci e della collettività nazionale come abbiamo molte occasioni fatte delle quali è stato il terremoto del centro Italia per la quale abbiamo anche noi contribuito con le nostre modeste disponibilità. Ed ora invece sentiamo il comandante regionale della Guardia di Finanza il generale Bruno Bartoloni e il sindaco Mario Bruno. Il generale Bartoloni è importante che sia stata scelta Alghero la Sardegna per questo ventesimo raduno nazionale. È la prima volta che viene scelta la Sardegna è una terra splendida una terra che ha dato a tanti finanzieri tanti finanzieri che si sono distinti nel corso del tempo con atti veramente importanti è veramente un piacere essere qui a festeggiare questo evento che porterà tante persone da tutta Italia qui. Abbiamo parlato dell'importanza dell'Anfi comunque in generale in Italia e in questo caso per questo raduno. Sì, l'Anfi è un'associazione fondamentale l'associazione che custodisce le nostre tradizioni di cui fanno parte tante persone che nella loro vita hanno servito il Paese, lo Stato e la Guardia di Finanza e chiaramente per noi è un elemento fondante della nostra istituzione. Posso dire una grande festa per tre giorni? Una grande festa per tre giorni è un momento per celebrare il rapporto tra le istituzioni la Guardia di Finanza e il territorio in particolar modo la città di Alghero e per noi sarà veramente un piacere poter essere qui e ringraziamo Alghero per aver voluto ospitare questo evento. Sì, Nacolio che si sta abituando ai grandi eventi centesimo giro d'Italia in questo caso ventesimo raduno dell'Anfi Ah sì, per la prima volta in Sardegna direi che è un momento importantissimo per la città di grande rilievo che segna anche un rapporto con chi serve lo Stato e quindi un rapporto altamente istituzionale chi serve e chi ha servito lo Stato attraverso la Guardia di Finanza e credo che questo servizio sia un servizio che rimanga per sempre in questi giorni lo dimostreranno ancora di più un momento istituzionale un momento culturale di reciprocità fra istituzioni fra territori e la Sardegna credo che sia una terra di accoglienza e lo dimostrerà anche in questa volta Aspetta una grande partecipazione anche degli algheresi Sì noi ne approfittiamo proprio per coinvolgere gli algheresi i sardi perché sia un momento di popolo e quindi la città deve partecipare può partecipare a questo grande appuntamento istituzionale Ci lasciamo ora c'è la pubblicità tra poco Tutti gli insegnanti del liceo scientifico e delle scienze umane si dicono profondamente colpiti dai recenti fatti in cui si sono trovati coinvolti alcuni soggetti che operano nella scuola il dirigente professor Antonio Uda la collaboratrice scolastica signora Antonina Bullitta il centralinista signora Franco Santoro e soprattutto il vicario professor Pietro Sanna ed esprimono attraverso una lettera la propria opinione relativamente ai fatti accaduti l'ampia risonanza mediatica che gli è stata riservata esime dal ripercorrere eventi ormai noti a tutti tuttavia si ritiene necessario in questa sede ripercorrere la storia del nostro liceo che è storia di costante inclusione profondo rispetto e considerazione della disabilità si legge nella lettera da anni attivo è perfettamente funzionante uno staff di docenti che ha a cuore il benessere e l'inserimento dei ragazzi in situazioni di svantaggio la cui premaria preoccupazione è che la loro partecipazione alle varie attività sia quanto più possibile integrata e serena tutto il personale della scuola inoltre ha sempre mostrato grande sensibilità nei confronti di qualunque studente in difficoltà e si è sempre attivato al meglio per far loro superare tutti i disagi che derivassero dalla loro condizione ciò posto si legge ancora gli insegnanti hanno vissuto con estremo stupore reso conto che degli eventi è stato divulgato in quanto niente ha fatto corrispondente ai comportamenti che abitualmente hanno potuto osservare nel tempo un immediato chierimento tra le parti avrebbe forse risolto il malinteso ed evitato l'agonia mediatica alla quale il collega Pietro Sanna pur se preceduto nelle stesse osservazioni dal dirigente e da una collaboratrice scolastica è stato sottoposto per tutto questo i docenti del liceo scientifico e delle scienze umane amareggiati per quanto accaduto e per l'immagine che dalla loro scuola è stata data esprimono solidarietà al collega nella certezza che i suoi comportamenti non avessero in alcun modo intenti discriminatori concludono nella lettera e questa sera presso la sala parrocchiale della Mercedes si terrà la terza assemblea generale del comitato di quartiere Alghero Sud argomento principale la partenza della raccolta porta a porta ne abbiamo parlato con il presidente Giuseppe Mancino con Giuseppe Mancino presidente del comitato Alghero Sud oggi è una giornata per voi importante perché c'è l'assemblea del comitato di quartiere partiamo da qui sì oggi alle ore 18 presso il salone della Mercedes della parrocchia della Mercedes si terrà la terza assemblea generale del quartiere Alghero Sud e si parlerà di un tema molto importante che interessa non solo il quartiere Alghero Sud ma tutta la città di Alghero la raccolta differenziata quindi un argomento importante chi ci sarà a parlarne? Allora ci sarà anzitutto l'assessore che ringrazio all'ecologia Raniero Selva e poi i funzionari del comune e della Ciclat che parleranno di come iniziare anche nel quartiere Alghero Sud anche se nelle periferie è già iniziata la raccolta differenziata da alcuni mesi però si estenderà a partire dai prossimi giorni quindi dal mese di maggio anche alle vie principali centrali del quartiere Alghero Sud che sono via Giovanni XXIII via Sassari e via Kennedy dunque un invito a tutti i cittadini a partecipare che i commercianti Certo purtroppo i commercianti io so che non potranno intervenire in molti perché lavorano però devono capire che la parrocchia viene data determinate ore il salone della parrocchia però io spero che i cittadini intervengano numerosi per ascoltare appunto il messaggio portato dall'amministrazione comunale di Alghero Procede dunque l'attività del comitato di quartiere Alghero Sud oltre a questo appuntamento quali sono gli altri? Allora il prossimo appuntamento sarà in maggio una gita del quartiere però io vedo un po' il futuro il triennio sta per concludersi nel dicembre 2018 ci saranno le nuove elezioni per le cariche quindi già da adesso io invito anche stasera durante l'assemblea a proporsi soprattutto persone giovani proporsi e candidarsi per il nuovo consiglio direttivo che guiderà questo comitato che è il penultimo dei nati a iscriversi a partecipare alle nostre riunioni e poi magari candidarsi per poter fare parte del nuovo direttivo che guiderà questo comitato nel triennio futuro cioè dal 2019 sino al 2021 da qualche settimana in corso in tutta la Sardegna e anche ad Alghero la campagna per la raccolta delle adesioni alla class action ammessa dal tribunale di Cagliari avente ad oggetto i conguagli partite pregresse 2005-2011 o conguagli regolatori il cui pagamento è stato richiesto da Abanoa SPA agli utenti si tratta di somme che tanto il tribunale di Cagliari quanto quello di Nuoro hanno ritenuto non dovute tant'è che il primo ha ordinato ad Abanoa di provvedere alla restituzione agli utenti delle somme da questi pagate mentre il secondo le ha ordinato di sospendere ogni attività di riscossione nella nostra città le adesioni possono essere presentate entro il termine del 20 maggio presso i locali della Confartigianato in via Vittoria Emanuele 113 dove è stato istituito dalla Dicomus in Sardegna un punto di raccolta gli interessati dovranno presentarsi muniti di copia di un documento di riconoscimento di copia della fattura riguardanti conguagli partite pregresse 2005-2011 e di copia delle ricevute di pagamento per chi vi avesse provveduto maggiori informazioni saranno fornite durante l'assemblea cittadina che si terrà questo sabato alle 10 presso la sala conferenza del Qualte in Largo San Francesco alla quale interverranno il presidente di Consul Sardegna Giorgio Vargi e il consulente legale dell'associazione l'avvocato Franco Dore e domani pomeriggio il Qualte ospiterà a partire dalle 18 la conferenza dal titolo Chi è stato? Pasqual Scano a cura dell'associazione Tolo se sentiamo in merito il presidente Franco Sanna e il professor Paolo De Siche insieme a Raimondo Dore cureranno alcuni momenti musicali Proseguono gli appuntamenti e gli eventi per la ricorrenza dei 110 anni dalla nascita di Pasqual Scano un personaggio importante per la nostra città di Alghero oggi siamo in compagnia del professor Franco Sanna che è presidente dell'associazione Tolo soorganizzatrice della conferenza che domani sera al Qualte avrà come protagonista appunto la figura di questo letterato partiamo da lei professore una conferenza voluta dalla Tolos per mettere in evidenza veramente la caratura di questo personaggio sicuramente in collaborazione naturalmente con altre entità come l'associazione Meta la fondazione Meta il comune di Alghero insomma tutti quelli che ci hanno dato una mano questa figura effettivamente meriterebbe molto più spazio nell'ambito della cultura algherese ha fatto tantissimo quasi mi sono meravigliato di scoprire quante cose abbia fatto nell'ambito della sua vita della sua attività in questa conferenza parleremo di alcuni aspetti della sua personalità e della sua produzione letteraria ci sarà un intervento da parte mia un intervento da parte del dottor Guido Sari che parlerà del tempo del suo tempo del contesto in cui si inserisce la sua opera ci sarà il contributo di Cavier Broton un amico di Tarragona che parlerà dei rapporti di Pasqual Scano con la Catalogna ci sarà Giussi Pascalis che leggerà alcune sue poesie e le commenterà ed è previsto anche un segmento musicale che sarà a cura di Paolo Dessi qui presente e Raimondo Adore e allora chiediamo al professor Dessi che cosa avete pensato per ricordare musicalmente la figura di Pasqual Scano noi abbiamo pensato intanto di fare le due canzoni che io ho musicato in questi anni io per la verità ho musicato la prima canzone di Scano negli anni 70 negli anni 70 e adesso ho musicato l'ultima canzone l'ho musicata qualche giorno fa era un inedito allora adesso uscirà tra poco un testo di nuova poesia di Scano con Raimondo siamo una vita che suoniamo insieme quindi penso che sia abbastanza abbastanza interessante riascoltarci perché eravamo già forse 5-6 anni che non suonavamo più insieme e vediamo stasera domani sera di dare il nostro contributo però Raimondo per la verità farà anche lui degli interventi musicali solamente musicali sempre di canzoni fatte con testi di Scano quindi diciamo delle parentesi che arricchiranno una conferenza di questo tipo diamo l'appuntamento professore sì sì quindi domani pomeriggio alle ore 18 nella sala conferenza del Qualte quindi chiedo a tutti di intervenire chi è interessato naturalmente ci lasciamo per l'ultimo break pubblicitario a tra poco sono iniziati i pellegrinaggi al santuario di Nostra Signora di Valverde gli orari della Santa Messa domenica saranno alle 7 alle 8 le 10 le 11 e 30 il pomeriggio alle ore 17 e 30 18 e 30 è possibile raggiungere il santuario anche con l'autobus partendo da Sant'Agostino al mattino alle 7 e 40 al pomeriggio alle 16 e 30 tutti i giorni da lunedì al sabato la domenica invece si parte da Sant'Agostino alle 9 e 30 e al pomeriggio sempre alle 16 e 30 parliamo di motori nell'edizione di oggi del nostro telegiornale questo fine settimana in programma lo slalom del Villanova nei giorni scorsi conferenza stampa di presentazione nel vicino comune montano sentiamo le interviste con Tore Bello e Pier Vittorio Farris del team Alghero Corsa che lo organizza e con il sindaco di Villanova ma partiamo con i vertici del team quest'anno visto il successo dell'anno scorso abbiamo chiesto alla federazione la titolarità in campo nazionale per cui ci sarà un ispettore che verrà a valutare le nostre le nostre referenze e speriamo di poter raggiungere questo titolo e consegnare alla città di Villanova un trofeo che è veramente ambito e niente volevo ringraziare tutto il comune di Villanova il presidente della Proloco il comandante dei carabinieri di Villanova i vigili urbani tutta la popolazione tutti gli sportivi tutti i piloti tutti i commissari di percorso tutte le persone che ci daranno una mano per contribuire alla riuscita di questa nostra bella e grande manifestazione per cui arrivato a questo punto non posso dire altro vi aspettiamo numerosi al Villanova grazie ciao a tutti amici sportivi siamo qui per il secondo anno consecutivo come federazione AC Sport e team Alghiero Corse e portiamo questa manifestazione adesso a fine aprile al top per quanto riguarda gli slalom in Sardegna questo ci rende un attimo una punta di orgoglio per quanto riguarda l'organizzazione del team Alghiero Corse ovviamente vi aspettiamo numerosi come pubblico per quanto riguarda appunto la nostra manifestazione e vi ricordo anche che a fine maggio ci sarà la amata Alghiero Scalapicada settore slalom speriamo di trovare delle giornate come questa soleggiata meravigliosa e di portare avanti le manifestazioni sempre nell'amore per lo sport grazie a tutti ed ora in conclusione sentiamo il sindaco del vicino comune Montano allora anche quest'anno viene proposta qui a Villanova Monteleone la gara di autoslalom in salita è il secondo torneo del Villanova che viene proposto sulle nostre strade grazie all'impegno alla proposta del team Alghiero Corse una proposta che nasce dalla collaborazione anche con gli altri team motoristici di Villanova Monteleone che sono appunto il VM Karting e il team Villanova Corse quindi una seconda edizione che viene fatta nel territorio dell'unione del Villanova in un tratto appunto della strada che da Villanova porta a Monteleone Roccadoria inserita quindi in un palcoscenico se vogliamo anche da un punto di vista paesaggistico e ambientale sicuramente importante apprezzabile e invidiabile dove appunto i colori della primavera i profumi della primavera vanno ad arricchire ad impreziosire ancora di più questa bella manifestazione una manifestazione che lo scorso anno ha avuto un successo di pubblico e di partecipanti importanti e sono sicuro che anche quest'anno possa essere confermata una manifestazione che sicuramente va a coinvolgere molti appassionati presenti nel nostro comune e in tutti i comuni circostanti quindi noi pensiamo che grazie appunto a questa passione grazie a questo interesse anche quest'anno possa essere confermato il successo lo scorso anno o addirittura migliorato quindi vi aspettiamo tutti a Villanova Monteleone domenica 29 per la gara della Toslalone in salita ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti